Concerto a Terni di Ars Ludi, ensemble di percussionisti tra i più rinomati in Europa, gruppo fondato nel 1987 e guidato da Antonio Caggiano e Gianluca Ruggeri. Sul palco dell'Auditorium Gazzoli, Ars Ludi ha condotto il pubblico attraverso l'affascinante mondo della musica contemporanea, fra nuove tecnologie e materiali sonori concreti per un vero e proprio evento d'avanguardia. Sono stati eseguiti brani di Glass, Battistelli, Tour e Reich, una performance molto apprezzata dagli appassionati del genere.